Hello, 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 Milanello, rispondiamo a tutti, a questo e quello. Hello, 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 Milanello, esser rosso nello, quanto è bello. Ciao! 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 destro fresco come Kalulu che possa crescere e voglio un terzino destro già pronto per galoppare su quella fascia come potrebbe essere Dumfries del PSV in Doven di cui si parla molto. Una curiosità su Kalulu, lui non è l'unico calciatore in famiglia perché anche i suoi due fratelli maggiori sono entrambi calciatori, uno gioca nello Swansea in Inghilterra e l'altro gioca nell'Aiaccio in Francia. Perciò è una famiglia di calciatori, speriamo che questo colpo possa aiutare il Milan a crescere in fretta come prestazioni su quella fascia visto che negli ultimi anni Conti e Calabria personalmente e penso non solo personalmente non mi hanno soddisfatto e infatti il Milan ha preso la decisione di cambiare entrambi. Su Calabria verrà fatta anche una plusvalenza e su Conti invece vedremo in base a quanto verrà venduto. Personalmente credo che è il momento giusto di vendere entrambi visto che hanno tutti e due il contratto in scadenza nel 2022, soprattutto Calabria perché ultimamente chiedeva con insistenza il rinnovo di contratto con anche un adeguamento al rialzo che secondo me non merita. Perciò il Milan ha virato su Calulu. Io sono contento perché è un classe 2000 e credo che possa far bene nel Milan con i colori rossoneri nelle prossime stagioni. Fatemi sapere voi cosa pensate non solo di Calulu ma anche degli altri due giocatori che vi ho presentato e commentate in tanti questo video e iscrivetevi al canale YouTube se non lo avete già fatto perché vogliamo crescere sempre di più. Ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti. Ciao, ciao, ciao. Rispondiamo a tutto, a questo e quello Hello, 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 miralo, hello Questo è il rosso nello, quanto è bello